Gli eventi internazionali che hanno colpito duramente un tessuto economico e sociale reso più debole e fragile, con un clima di sfiducia e incertezza verso il futuro, l'inflazione che sale. Tuttavia l'economia toscana tiene, con un andamento comunque positivo riguardo a produzione industriale, esportazioni e mercato del lavoro. I livelli occupazionali in particolare hanno superato quelli pre-pandemia. È il quadro sull'economia toscana che emerge dal rapporto IRPET. In questo contesto in particolare la svolta può arrivare dal PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il 2022 in particolare si è chiuso con 5 miliardi di euro di progetti, uno scenario che nell'arco della programmazione porterà benefici al PIL della Toscana. C'è una parola che può dare un esito positivo al racconto finale, che è la parola ricostruzione e rilancio, che possiamo ottenere e realizzare attraverso un uso appropriato delle risorse del PNRR. Le potenzialità che derivano dagli investimenti di un PNRR che per la Toscana significa più di 4.300 progetti, e quindi un volano, se vogliamo, in chiave chienesiana che può attivare crescita di occupazione, di fatturato e quindi nuove potenzialità per l'economia toscana. Sono convinto che per far questo è evidente che occorre molta pace sociale, coesione e azioni di sostegno alle imprese che la Regione, anche attraverso i fondi europei, oltre che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, proprio si propone di poter offrire. Il fatto di avere ancora a disposizione PNRR, la nuova programmazione, situazioni che quindi hanno la necessità di essere accompagnate in maniera complementare, possono attenuare gli effetti negativi dal punto di vista sociale e soprattutto consentire a questa forza che sta esprimendo la nostra industria di non limitare la sua capacità.